ben trovati amici del web a partire da oggi torniamo a parlare di colesterolo perché il problema dell'ipercolesterolemia nella popolazione è purtroppo molto diffuso e molto legato alle abitudini alimentari ma è un problema che ahimè troppo spesso i medici tendono a risolvere d'ufficio semplicemente prescrivendo dei farmaci quando invece sarebbe molto più importante puntare sulla dieta e questo consentirebbe nella stragrande maggioranza dei casi di fare completamente a meno dei farmaci ma non possiamo fargliene una colpa non è semplice pigrizia o in preparazione primo soprattutto i medici di base semplicemente non hanno tempo hanno talmente tanti pazienti che possono dedicare a ciascuno solo finestre molto limitate di tempo non possono starli un'ora con ciascuno perché nel frattempo in sala d'attesa scoppia la rivolta e purtroppo insegnare a riformulare le proprie abitudini alimentari richiede molto più tempo che prescrivere una pastiglietta e secondo anche ove fosse possibile molte persone preferiscono comunque la pastiglietta cioè non hanno alcuna voglia di impegnarsi a modificare le loro abitudini e preferiscono la scorciatoia offerta dal farmaco ma il farmaco ahimè ha anche effetti collaterali e soprattutto si limita a curare i sintomi non le cause un po come mettersi a svuotare col secchi una vasca da bagno mentre il rubinetto rimane aperto per chiudere il rubinetto bisogna cambiare la dieta e visto che tenere sotto controllo il colesterolo con la dieta si può e quasi sempre ci consente di liberarci dalla necessità dei farmaci ecco che per chi ha voglia di mettersi un po di impegno arriviamo in aiuto noi nutrizionisti come sempre però prima le cose bisogna cercare di capirle almeno in modo generale perciò prima di arrivare alla dieta dobbiamo afferrare almeno le basi della scienza del colesterolo ed è quello che faremo tra oggi e le prossime due puntate in questa piccola serie rivedute aggiornata dedicata al colesterolo nel video di oggi faremo per così dire il corso base per capire cosa è il colesterolo a cosa ci serve quando invece ci fa danno e come mai la dieta gioca un ruolo fondamentale nel prossimo video il corso un po più avanzato per approfondire il suo metabolismo e cercare di andare oltre la distinzione un po semplicistica tra cosiddetto colesterolo buono e colesterolo cattivo e infine sulla base di quanto avremo imparato nell'ultimo video trarremo le conclusioni per quanto concerne i comportamenti dietetici specifici per tenere sotto controllo la colesterolemia e allora che cos'è il colesterolo il colesterolo è una molecola lipidica perché insolubile in acqua ma è molto diverso anche strutturalmente dalla grande maggioranza dei lipidi che si trovano negli alimenti e nel nostro corpo cioè i trigliceridi coi loro acidi grassi e i fosfolipidi per cui fa un po a sé e non ha funzione energetica un'altra caratteristica peculiare del colesterolo che è una molecola esclusivamente animale le piante producono altri steroli che nel complesso chiamiamo fitosteroli ma non producono colesterolo solo le cellule animali sono capaci di farlo per questa ragione nessun alimento vegetale conterrà mai colesterolo ad esempio non c'è colesterolo nell'olio nelle margarine vegetali nel burro d'arachidi nel pane o nella pasta nella frutta secca o nei semi oleosi solo gli alimenti animali contengono colesterolo allora la prima cosa importante da capire è che nonostante il nome colesterolo evochi spesso qualcosa di negativo il colesterolo in sé non è un veleno e non è una malattia al contrario un elemento assolutamente fondamentale per la nostra vita per almeno quattro ragioni in primo luogo il colesterolo ha una importantissima funzione strutturale a livello delle nostre cellule è un materiale essenziale per la crescita e il mantenimento di tutte le cellule animali e svolge un ruolo chiave a livello delle membrane cellulari alle quali conferisce rigidità bilanciando la fluidità data dai fosfolipidi quindi il colesterolo ci dà struttura se noi abbiamo la forma che abbiamo e anche grazie al colesterolo e poi ancora il colesterolo svolge un'importante funzione strutturale a livello della guaina mielinica che protegge i nostri neuroni e consente la trasmissione corretta degli impulsi nervosi secondo il colesterolo è la materia prima che il nostro fegato utilizza per costruire i sali biliari di cui abbiamo assoluto bisogno durante la digestione per poter digerire i lipidi terzo il colesterolo è il precursore della vitamina d questa molecola preziosissima per la nostra salute ma in me è difficile da trovare nel cibo per fortuna il nostro corpo è capace di farsela da sola a livello della pelle purché ci esponiamo regolarmente alla luce del sole ma per farlo abbiamo bisogno della materia prima che è il colesterolo quarto il colesterolo è il precursore di una vastissima classe di ormoni nel nostro organismo chiamati nel complesso gli ormoni steroidei ad esempio sono costruiti a partire dal colesterolo gli ormoni sessuali androgeni come il testosterone ed estrogeni come il progesterone e poi i glucocorticoidi come il cortisolo coinvolto fra l'altro nella nostra risposta allo stress e allora se il colesterolo fa così tante cose importanti come mai ha una reputazione negativa per capirlo dobbiamo distinguere il concetto di colesterolo da quello di colesterolemia per colesterolemia si intende la concentrazione di colesterolo in circolo nel nostro sangue quando nel linguaggio colloquiale a volte uno dice io ho il colesterolo come se fosse una disgrazia beh meno male che ce l'hai il colesterolo sarebbe più grave se non ce l'avessi l'espressione corretta sarebbe ho livelli troppo elevati di colesterolemia cioè di colesterolo in circolo nel sangue e infatti nel nostro corpo il colesterolo può stare o in giro nel sangue o all'interno delle cellule dei nostri tessuti tutte le cose utili che abbiamo elencato prima il colesterolo le fa all'interno delle cellule noi abbiamo idea che il colesterolo sia dannoso ma è importante mettersi in testa che il colesterolo è dannoso se è solo fin tanto che è in circolo nel sangue ed è a livelli troppo elevati una volta che passa dentro le cellule non fa più danno a nessuno e anzi è assolutamente indispensabile per la nostra sopravvivenza nel sangue invece se si trova concentrazioni normali legate al suo normale trasporto dall'intestino al fegato e poi dal fegato tutti i vari tessuti che ne hanno bisogno anche lì non dà fastidio a nessuno quando invece le sue concentrazioni aumentano comunque sta in giro troppo a lungo allora cominciano i problemi per il nostro rischio cardiovascolare se il colesterolo non sa dove andarsene per cui se ne sta lì in circolo nel sangue circola che ti ricircola finisce per ossidarsi per depositarsi sulla parete delle nostre arterie soprattutto le coronarie penetrare sotto l'endotelio e promuovere il processo di aterosclerosi aumentando quindi il nostro rischio di malattie cardiovascolari inclusi eventi acuti come infarto e ictus attenzione i furbacchioni che ogni tanto se ne escono con sentenze del tipo a la scienza ha ormai ampiamente smentito che il colesterolo alto faccia niente di male a nessuno perché non è assolutamente vero certo ossessionarsi solo con la colesterolemia è sbagliato perché non è che determina tutto è solo uno dei vari fattori di rischio cardiovascolare il fatto che sia una delle cose che misuriamo più di routine con le analisi del sangue induce effettivamente molte persone ad attribuirgli un'importanza superiore a quella che merita noi sappiamo oggi che il processo di aterosclerosi che porta poi a rischio cardiovascolare è un processo complesso con una forte componente infiammatoria per cui giocano gli antiossidanti gli omega 3 gli zuccheri l'insulina e quindi è un quadro complesso e multifattoriali e quindi non è che avere il colesterolo alto sia di per sé una condanna a morte ma il colesterolo ha la sua fetta importante di peso tanto che esiste una correlazione diretta tra livelli di colesterolo nel plasma e incidenza di malattie coronariche per cui se il colesterolo in circolo è cronicamente elevato con un bilancio sfavorevole tra ldl e hdl e con suscettibilità all'ossidazione delle lipoproteine di trasporto tutte cose che vedremo meglio in seguito beh certamente questo è ed è tuttora un riconosciuto importantissimo fattore di rischio cardiovascolare non è che perché sono stati pubblicati un paio di articoli in letteratura che vorrebbero sminuirne l'importanza possiamo dire che la scienza abbia cambiato idea sul colesterolo per cui giusto non ossessionarsi preoccupandosi solo di quello invece che della dieta nel suo complesso giusto sapere che il colesterolo non è l'unico fattore che determina il rischio cardiovascolare ma giusto anche fare il possibile per tenerlo sotto controllo in modo che non faccia la sua parte di danni perché queste sono a tutt'oggi e a ragion veduta le raccomandazioni di tutti i più autorevoli istituti che si occupano di malattie cardiovascolari a partire dall'american heart association ok d'altra parte sia altrettanto chiaro che la colesterolemia elevata non è una malattia è solo un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari ma non è una malattia in sé voi state benone anche se avete livelli più elevati di colesterolo nel sangue se non lo misuraste non ve ne accorgereste neppure di averlo non ha neppure sintomi ve ne preoccupate solo e giustamente perché vi hanno detto che può aumentare il rischio cardiovascolare quindi giustissimo intervenire per controllarlo ma senza esagerare e soprattutto senza perdere di vista l'equilibrio della dieta nel suo complesso perché se per l'ossessione di abbassare la colesterolemia cominciate a riempirvi di farmaci o a seguire una dieta poco equilibrata beh avrete anche la soddisfazione di vedere un valore più basso al prossimo prelievo ma avete curato le analisi del sangue non il vostro corpo oh ed eccoci allora a un altro punto cruciale un vecchio assioma nutrizionale diceva più o meno così troppo colesterolo assunto con la dieta aumenta il colesterolo nel sangue che a sua volta poi aumenta il rischio cardiovascolare ebbene oggi sappiamo che questo non è vero la seconda parte è vera come abbiamo visto prima una colesterolemia alta aumenta certamente il rischio cardiovascolare quello che invece non corrisponde al vero è la prima parte cioè che un'assunzione elevata di colesterolo alimentare aumenti in modo significativo il colesterolo nel sangue una volta si pensava a questo per cui si facevano le analisi chimiche si vedeva che alcuni alimenti contenevano molto colesterolo che ne so l'uova le cervella ecco e si pensava che il consumo di questi alimenti andasse limitato per evitare innalzamenti della colesterolemia ma oggi sappiamo che conta assai poco per riassumere con uno slogan non è il colesterolo che alza il colesterolo tanto che persino le linee guida dietetiche del ministero della salute del governo americano che per decenni avevano raccomandato di limitare il colesterolo alimentare a meno di 300 mg al giorno a partire dal 2015 hanno finalmente rimosso questa inutile raccomandazione e non raccomandano più alcun limite per l'assunzione di colesterolo con gli alimenti quindi se per caso ancora qualcuno ha questa idea in testa toglietevi dalla testa che le uova facciano aumentare il colesterolo perché non è vero non succede potete mangiarne tranquillamente due al giorno tanto più che le uova oltre a contenere molto colesterolo contengono anche l'antidoto che è molta lecitina per cui se c'è proprio un alimento innocuo sulla colesterolemia sono le uova come mai la correlazione tra le due cose colesterolo negli alimenti e colesterolo nel sangue è molto debole beh innanzitutto perché l'assorbimento del colesterolo è limitato e non è molto efficiente solo circa la metà del colesterolo che mangiamo viene assorbito e se ne mangiamo più di 500 milligrammi l'assorbimento raggiunge un plateau cioè il nostro intestino non è più in grado di assorbirlo quindi a quel punto mangiarne 500 o 5000 non cambia più nulla viene tutto eliminato con le feci oltre a tutto questo all'aumentare del colesterolo assorbito con gli alimenti si attivano molteplici meccanismi omeostatici che riducono la produzione endogena di colesterolo e ne aumentano l'eliminazione attraverso la bile ed ecco perché come risultato di tutti questi meccanismi combinati variazioni anche sostanziali del colesterolo introdotto col cibo risultano in fluttuazioni solo minime del colesterolo nel sangue con l'eccezione di un ristretto numero di persone con un particolare svantaggio genetico che è l'isoforma 4 dell'apoproteina e per cui questi meccanismi omeostatici funzionano in modo meno efficiente e quindi questi soggetti sono leggermente più suscettibili alle oscillazioni di colesterolo a questo punto la domanda sorge spontanea se non arriva dagli alimenti da dove arriva questo colesterolo in eccesso che circola nel nostro sangue nessun mistero come sappiamo benissimo ormai da decenni il colesterolo ce lo produciamo noi quasi tutte le nostre cellule sono capaci di produrre un po di colesterolo se ne hanno bisogno per uso personale ma soprattutto il fegato ne può produrre moltissimo non per usarselo lui ma perché lui lo manda in circolo a beneficio degli altri tessuti per mandarlo agli altri tessuti però lo manda in circolo nel sangue ed ecco quindi perché la nostra colesterolemia è determinata in massima parte dal colesterolo prodotto nel nostro fegato grosso modo il 10 per cento del colesterolo circolante viene dagli alimenti cioè quello che ci mangiamo noi e il 90 per cento viene invece dal fegato e qui uno dice vabbè allora mi arrendo perché se è così allora non ci posso fare niente con la dieta fa tutto il fegato e la dieta conta per meno del 10 per cento e invece no errore gravissimo e purtroppo frequente dire che il colesterolo negli alimenti conta per meno del 10 per cento sulla colesterolemia non significa che la dieta conta per meno del 10 per cento al contrario la dieta ha un impatto ben più formidabile perché il fegato non lo decide a caso se produrre tanto o poco colesterolo e si dà il caso che sia proprio la dieta ad avere un ruolo fondamentale nel controllare questa produzione endogena come fa il fegato a produrre il suo colesterolo il fegato così come tutte le altre cellule del nostro corpo può costruire colesterolo a partire da una materia prima che è l'acetilcoenzima A che qualunque cellula può ottenere molto facilmente o dal glucosio o dai trigliceridi attenzione che questa via metabolica non è reversibile in altre parole il nostro corpo può costruire colesterolo a partire da zuccheri e grassi ma non può tornare indietro cioè non può distruggerlo riconvertendolo in acetilcoenzima A ebbene questa via metabolica che fabbrica il colesterolo è regolata principalmente da un enzima anche lui presente in tutte le cellule del nostro corpo che si chiama treidrossimetilglutarilcoenzima A reduttasi d'ora in avanti lo chiameremo per semplicità l'enzima del colesterolo come tutti gli enzimi questo può essere indotto e allora farà produrre tanto colesterolo oppure inibito e allora la sintesi colesterolo rallenta diciamo subito che una delle principali classi di farmaci ipocolesterolemizzanti le statine agiscono esattamente bloccando questo enzima per cui il fegato e tutte le nostre cellule si danno una bella calmata e producono assai poco colesterolo proprio come le statine sebbene in modo più blando alcuni acidi grassi a corta catena prodotti nel colon dalla fermentazione della fibra alimentare come l'acido butirrico agiscono in modo analogo inibendo l'enzima e questa è una delle varie ragioni per cui la fibra alimentare è capace di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue al contrario invece altri fattori dietetici possono indurre l'enzima del colesterolo e quindi aumentare la sua sintesi endogena e quindi la colesterolemia sono principalmente due primo un eccesso di grassi nella dieta in particolare di grassi saturi e grassi trans deprime la sintesi endogena di acidi grassi e quindi shifta l'acetilcoenzima verso altri utilizzi tra cui appunto la sintesi di colesterolo secondo un potente attivatore dell'enzima del colesterolo è l'ormone insulina che come sappiamo viene rilasciato dal pancreas in risposta agli impennamenti della glicemia ed ecco perché un eccesso di zuccheri aggiunti e di cereali raffinati nella dieta porta ad un aumento della colesterolemia se voi vi mangiate una mezza baguette tutta bella bianca raffinata con un indice glicemico di 95 vi fa schizzare il glucosio schizzare l'insulina l'insulina attiva l'enzima del colesterolo che prende lo zucchero della baguette e ne fa colesterolo e così con la vostra mezza baguette avete fatto molti più danni sulla colesterolemia che con una frittata di 4 uova e poi ci sono anche fattori non alimentari ma legati allo stile di vita ad esempio lo stress cronico è un fattore chiave che induce un aumento della produzione di colesterolo per poter costruire gli ormoni mediatori dello stress e poi ancora il fumo e lo stile di vita sedentario un'ultima cosa da chiarire oggi è ok finché abbiamo parlato sempre di problemi dell'eccesso ma esiste d'altra parte un rischio di carenza per il colesterolo in fondo abbiamo visto all'inizio come sia una molecola assolutamente importante e vitale per le funzioni strutturali e regolatrici che svolge nel nostro organismo e allora se è così importante qual è il nostro fabbisogno minimo di colesterolo ebbene in realtà per il colesterolo non è definito un valore di fabbisogno giornaliero perché non è un nutriente essenziale ricordiamoci che nutrizione essenziale non significa importante ma significa che deve essere introdotto per forza col cibo e il colesterolo non è essenziale perché come abbiamo visto noi essendo animali siamo capaci di fabbricarcelo per conto nostro dai grassi o dagli zuccheri per cui non dobbiamo preoccuparci di recuperare abbastanza colesterolo dal cibo il nostro corpo è in grado di costruirsi da solo tutto quello che gli serve poi ovvio già che è presente nel cibo animale possiamo certamente usare quello per coprire parte del nostro fabbisogno risparmiandoci la fatica di farlo noi ma non dobbiamo preoccuparci di coprirne un fabbisogno e con questo per oggi ci fermiamo questi erano i concetti basilari per capire meglio le vicende delle lipoproteine di trasporto e perché si parla di colesterolo buono e colesterolo cattivo vi do appuntamento al prossimo video di questa rubrica ma prima di lasciarci riassumiamo i punti chiave del discorso di oggi primo il colesterolo non è un veleno né una malattia ma una sostanza assolutamente indispensabile per la nostra sopravvivenza il colesterolo diventa nostro nemico solo se rimane in circolo nel sangue troppo lungo e a livelli troppo elevati perché finisce per danneggiarsi depositarsi sulla parete delle arterie e favorire il processo di aterosclerosi una volta che entra dentro le cellule invece scampato pericolo non fa più male a nessuno poi non è il colesterolo che aumenta il colesterolo vale a dire gli alimenti ricchi di colesterolo non fanno aumentare il colesterolo nel sangue in modo significativo per cui possiamo mangiare tranquillamente le uova senza l'incubo di limitarle a tre o quattro per settimana questo però non significa che la dieta non abbia un ruolo fondamentale perché ci sono altri comportamenti alimentari che loro si possono indurre potentemente la nostra produzione endogena di colesterolo in particolare un elevato consumo di grassi saturi grassi trans zuccheri aggiunti e cereali raffinati finiscono per aumentare notevolmente la nostra colesterolemia anche fattori legati allo stile di vita quali lo stress cronico il fumo e la sedentarietà hanno effetti dannosi per la colesterolemia di converso ci sono altri comportamenti alimentari che possono aiutarci a ridurre attivamente la colesterolemia oggi abbiamo accenato uno di questi che è la fibra ma ce ne sono molti altri questo sarà l'argomento del nostro terzo e ultimo video dedicato al colesterolo prima di arrivarci però dobbiamo ancora capire alcune cose legate alle lipoproteine che trasportano il colesterolo nel nostro sangue chilomicroni vldl ldl hdl e di queste parleremo nel prossimo video per oggi invece non mi resta che ricordarvi il sito www.spaziosfera.com per trovare ulteriori contenuti o inviare alle vostre domande e poi gli account instagram twitter e facebook at spaziosfera e a questo punto la cosa da ricordare è una sola vita quieta mente alieta e moderata dieta tutto chiaro very full